È stato trovato senza vita da un escursionista poco prima delle 11 del mattino un uomo in località Campo Felice. Per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio perché sul corpo c'è il colpo di un'arma da fuoco. L'uomo è stato ritrovato nei pressi della Madonnina, sul versante di Monte Rotondo. Era un maresciallo dell'esercito in pensione, originario di Velletri, ma residente ormai da anni a collimento di Lucoli. Non sono stati trovati dei biglietti accanto al corpo, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, per spiegare il gesto. La salma è stata recuperata e trasportata all'ospedale dell'Aquila con l'elisoccorso. Sembrerebbe l'ipotesi del suicidio quella più plausibile per il momento.